L'annunciato sciopero degli autotrasportatori previsto per oggi lunedì 14 marzo ha fatto scattare una vera e propria psicosi da carburante. Già nella giornata di sabato si era registrato un maggiore afflusso agli impianti con lunghe code. Il timore di restare a secco e non poter utilizzare qualsiasi tipo di veicolo per gli spostamenti vince sull'aumento dei prezzi del carburante che anche stamani ha fatto girare ancora i numerini in avanti sia per il servito che per il self. Il diesel e benzina sono venduti mediamente a oltre 2,50 euro e questo viene percepito come uno degli effetti a distanza più immediati della guerra in corso tra Russia e Ucraina. Se in tanti preferiscono scendere dall'auto e servirsi da soli per tentare un piccolo risparmio non manca chi si presenta ai distributori di benzina per riempire anche tanniche da tenere a riserva. La maggior parte dei benzinai afferma di avere ancora scorte da offrire alla clientela ma tutto sarà legato allo stop previsto proprio per oggi dagli autotrasportatori, uno sciopero che avrà ripercussioni non solo sul carburante ma anche su altri beni. Anche nei supermercati infatti la gente sta facendo scorta di beni. Pronto per fare il pieno? Il pieno no perché arriva da 2,20 euro la benzina. Cerchiamo di adeguarci a questi cambiamenti velocissimi. Speriamo che fanno qualcosa perché così non si può andare avanti. Anche i cereali sono arrivati a un verso esorbitante. Pieno? Assolutamente no. Per i prezzi che sono aumentati insomma sperando che abbassino un po' in questi giorni. E anche se secondo me è tutta una fobia che abbiamo noi italiani perché comunque io penso che tutto continuerà ad essere così regolare sia per quanto riguarda la benzina sia per quanto riguarda gli alimenti di prima necessità. Perché infatti anche ieri nei supermercati vedevo un po' la corsa all'approvvigionamento per la pasta, farina, zucchero. Però penso che siano tutti falsi segnali. Certo c'è l'aumento sì, bisogna fare qualcosa per far rientrare il tutto perché mi rendo conto che gli stipendi a fine mese sono sempre gli stessi. Da stamattina alle 8 è stato un via vai continuo. Siamo quasi a mezzogiorno e penso che in questo momento dovrebbe scendere, si sono fatti prendere dalla psicosi che finiva la benzina. Effettivamente c'è un problema che potrebbero fare un blocco. Però purtroppo sono tre giorni che va avanti così. Generalmente voi vi approvvigionate tutti i giorni? Tutti i giorni, tutti i giorni ci sta la prima. Il resto i serbatoi sono scesi abbastanza, c'è da pensare? Tanto, è rimasto poco. Allora questo qua ovviamente ha messo in crisi tutto il sistema ma tutte le bombe di benzina sono sotto stress questi due o tre giorni.